Allora stelle, stavo guardando un po' il YouTube, allora gobbi intelligenti, partiamo dal presupposto che non pensavo che esistessero, non ce n'è, non l'ho mai visto, questo qui, come si chiama, Asmin, Asmin, Asim, questo qua, il gobbo intelligente è uscito fuori, da dove sei venuto fuori te? Da dove cazzo sei venuto fuori? Con questa intelligenza, senti, senti, vai, vai. Sei squadra forte e ce ne sono tante altre, dipende, sei tu che scegli quello che vuoi fare. E la partita che l'Inter ha scelto di fare, avvilmente e incredibilmente guidata da Izaki, che sta veramente impreziosendo e rafforzando questa squadra, è stata una partita perfetta. Poi però dobbiamo parlare della frustrazione di certa gente, di frustrazione di certa gente, gente che si caratterizza spesso per imprezia, per stupidità, profonda, profonda mediocrità, una frustrazione veramente indescrivibile, perché è chiaro che uno si mette a fare contro l'avversario di turno, disconoscendo però la forza di quell'avversario. E allora, invece di dire che l'Inter, già ben prima del 1-0 su rigore, avrebbe potuto e meritato anche di segnare, avrebbe potuto segnare un altro paio di gole, le avrebbe già meritato e stava già dominando in un ghellarco, ci si attacca allo strattone sulla Taro Martinez, che non era così evidente ed era un rigorino. E si parla di questo. Senza vergogna, senza pudore. Senza pudore. La gente frustrata, infelice e mediocre, è la stessa che quando succedeva alla sua squadra di subire recriminazioni e attacchi dagli altri tifosi per qualche sodio arbitrale, rispondeva sì ma abbiamo vinto 3-0, sì ma abbiamo vinto 4-0, sì ma avremmo dovuto segnare quello prima, sì ma avremmo segnato lo stesso, sì ma avremmo vinto ugualmente. Un gobbo intelligente. 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 Finalmente. Paragonia, stupidità, ignoranza, frustrazione, mediocrità, e tutta una serie di altre cose schifose. Basta. Vi ha distrutto. Vi ha distrutto. E questa gente è caratterizzata da questo schifo che poi si va a sublimare perfettamente nella squadra per cui fanno il tipo. Ecco qua. E allora vi posso parlare che non era a rigore quello. Ah non era a rigore? Solo un frustrato mediocre di questa gente. Frustrati. Non risce assolutamente nulla, può pensare che se io ti sfioro mentre tu stai correndo è la stessa cosa che se io ti sfioro mentre stai fermo. E' normale che quella manata sulla spalla di Daudaro Martinez che gli spinge la spalla destra all'indietro gli corrompe la dinamica di corsa. Che fa Daudaro Martinez si tuffi. Cioè io sono senza parole. E' una cosa che fanno tutti. Madonna che intelligente che questo qua. Tutti i calciatori accentuano. Quindi ormai dovremmo superare questa storia che siccome è accentuata allora vanno in corsa. Mamma mia che grande questo. Perché non vieni nell'Inter? Sul pallone denota solo ancora più stupidità nell'intervento del difensore. Ma perché non vieni con noi? Non c'era veramente bisogno di andargli a... Spera, 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 spera. E' chiaro che il pallone c'è. Spera, spera, spera. Ma come cazzo ti chiami tu? Simone Havsmin. Ma perché non diventi interista Simone? Oh c'è un gobbo figo veramente. E scommetto che lui ha tanti nemici gobbi. E beh ovvio. Simone, chapeau. Ma non perché io sia interista. Ma chapeau. Tutti frustrati. Chapeau. Chapeau. Bravissimo. Come anche ho visto prima pure Cavazzini. Ha detto scusate ma c'è un... Ma da regolamento. Quanti rigori si possono dare? C'è un limite fino a 4-5 rigori. Anche se sono 50.000. Se è rigore, è rigore. Hai capito? Io anche io rosico se prendono un rigore i gobbi. Però se è rigore, è rigore. Faccio lo sfottò per un video solo. Ma non che tiro tutta la settimana avanti. Simone, Simone Havsmin. Un applauso. Chapeau. Un applauso. Un gobbo serio. Ho trovato il gobbo che mi piace serio. Ma non perché ha difeso l'Inter. Può difendere tutti chiù. Ma bravo. Simone Havsmin. Metto... Aspetta. Metto. Iscrizione al canale. Iscriviti. Affanculo. Eh. Iscriviti. Grande Simone.